Grava certamente, sicuramente, sui turisti. Non dimentichiamoci che non è una tassa sugli alberghi, stiamo facendo una battaglia e qui spiace evidenziare il silenzio assoluto delle associazioni dei consumatori perché ricordatevi che questa è una tassa che graverà su di voi. Siete voi, quando verrete nelle nostre strutture, a dover pagare la tassa per ripianare i bilanci dei singoli comuni. Una città con dei servizi innovativi che gli si può offrire e penso che i turisti un po' siano poco, ovviamente, così come vogliamo noi la tassa, ma veramente poco, ma siano disposti anche loro a investire per questo. Così come facciamo noi quando andiamo in molti paesi stranieri in cui ci chiedono un piccolo contributo per trovare servizi migliori. Vai sul sito di New e comincia subito a partecipare.